Guarda, ho fatto il punto per il settembre. Mi faccio il mondo, non ho fatto tutto, e si ne provo, non ci porto l'altra, e si prendo un bel yogurt, e faccio un uomo, e già io sono, e mi chiede, 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 e li ho fatto tutto, e ci vedo che ci vedo, e che mi chiede, ore rai, e mi chiede per la tusca. Non, ci vedo che a lui, ora e c'è, voi ti chiede a lui, è ma cosa che non ci vuole un po' di solito un po' di solito un po' di solito un po' di solito